Tre donne entrate nella storia e nel mito, Rosa Luxemburg, Rose Parks e Rose Friedman, e poi i personaggi femminili, Norma, Violetta, Giulietta. E questa è la struttura di Rose, lo spettacolo che il Teatro Verdi, con la collaborazione artistica del Conservatorio Tartini e il contributo dell'assessorato comunale Le Pari Opportunità, ha realizzato in occasione della Festa della Donna, e che Telequattro riproporrà domani a partire dalle 21. Concepito da Isabel Russinova per quanto concerne i testi, affidato al maestro Stefanie Pardurre per l'orchestra, Rose è anche e soprattutto un tributo alla creatività femminile. I costumi sono stati ideati da regina Schrecker, uno spettacolo Rose che fa riflettere soprattutto su quanto il teatro musicale punti, verrebbe da dire da sempre, su personaggi femminili, magari languidi, ma dotati di un grande coraggio che li pone ai vertici di un immaginario collettivo che ha in noi, per ora, non sembra volersi altrimenti concretizzare.